Devo dire francamente che ho l'impressione certe volte che Casini pensa di stare ancora negli scontri e nei rancori di una legislatura che oramai è finita. Stiamo parlando della prossima e allora bisognerebbe mettersi dietro alle spalle le dialettiche e gli scontri di quella che abbiamo vissuto. Berlusconi ha detto che lui è disponibile a fare un passo indietro nel caso in cui Monti lo faccia in avanti e nel senso però di una aggregazione di tutti i moderati. Dopodiché oltre questo non vedo che cosa possa e debba dire.